Aveva messo a segno un colpo che gli aveva fruttato più di 2000 euro, un topo d'appartamento che si era introdotto qualche settimana fa in un'abitazione in via Malta, entrato da una finestra del palazzo. Dopo aver messo a soccuadro la casa ed aver rubato denaro, preziosi oggetti e anche un computer portatile, si era dileguato nottetempo nelle vie vicine al luogo del reato. Il portatile è stato ritrovato poco lontano dal palazzo in cui è stato commesso il furto. Ad incastrarlo le impronte digitali trovate nell'appartamento e comparate dalla polizia scientifica. Infatti il giovane catenese, nonostante l'età, aveva già numerosi precedenti penali. Al momento la squadra mobile sta accertando eventuali coinvolgimenti di terze persone e rintracciando gli eventuali ricettatori della refurtiva.